Buongiorno a tutti, grazie di essere qua oggi, ringrazio la città di Capri per aver organizzato questo Digital Summit e ringrazio anche Ernest & Young per avermi invitato. Bene, io oggi prima di condividere con voi quelle che saranno le nostre idee all'interno di questo ministero volevo prima dirvi il perché noi lo facciamo. Noi abbiamo iniziato questo lavoro perché crediamo che l'Italia possa cambiare, noi crediamo di essere un popolo di innovatori, di leader, di trasformatori, di ispiratori ma soprattutto noi crediamo di essere un popolo di lavoratori. Oggi non vi darò formule magiche per digitalizzare, trasformare l'Italia, innovare, vi dirò che serve solo una cosa, lavorare, lavorare tantissimo e noi non ci faremo scappare l'occasione di dimostrare che lavorando ce la potremmo fare a cambiare il nostro paese. Allora, a discapito del brutto tempo, oggi vorrei darvi qualche bella notizia. La prima bella notizia è che il governo dopo 13 anni ha di nuovo creato un ministro dell'innovazione e questo significa che la nostra politica, il nostro governo è attento a questi temi, attento ai temi dell'innovazione e attento ai temi della digitalizzazione. La seconda buona notizia è il fatto che noi crediamo fortemente in questa tematica e quindi cercheremo di mettere un po' di ordine in tutte le politiche di digitalizzazione ma anche di innovazione che sono state fatte e esistono all'interno del nostro paese, ma non cercheremo solo di mettere ordine, cercheremo anche di mettere un po' di disordine perché non accetteremo le cose che non hanno funzionato fin qua. Faremo un po' di challenge sullo status quo e cambieremo le cose che in Italia, nel campo della digitalizzazione e dell'innovazione, oggi non funzionano. Queste cose però come le faremo? Tendendo sempre un orecchio a quelle che sono le vostre idee, i vostri progetti, le vostre attività, perché l'Italia non è un'Italia del pubblico, del privato, non è un'Italia del nord o un'Italia del sud, è un'Italia di noi cittadini, è un'Italia a misura d'impresa, è un'Italia dove noi dobbiamo vivere meglio ed è soprattutto un'Italia dove le idee e le attività e i sogni si devono poter realizzare. Terza bella notizia, non inizierò tutto da capo, non inizieremo tutto da capo come spesso si fa, ma continueremo le cose giuste, le cose buone, i progetti buoni che sono stati fatti. Continueremo i progetti che ha portato avanti il team di trasformazione digitale, prima guidato da Piacentini e adesso guidato da Luca Attias. Luca, dopo tre settimane che lavoro con te, ho capito perché ti chiamano il commissario della trasformazione digitale, perché davvero Luca sta portando all'interno del nostro paese una trasformazione incredibile che io continuerò e ringrazio Luca per il lavoro che ha fatto e per il lavoro che sta facendo insieme a noi e se per caso pensavi di andare in vacanza dovrai rimandare questo progetto perché purtroppo dovremmo lavorare più di prima. Questo perché l'innovazione è un bene comune e come bene comune deve essere un qualcosa che facciamo tutti insieme e quindi noi cercheremo di essere aggreganti, non ci perderemo in polemiche sterili, cercheremo di essere un collante tra i progetti all'interno della pubblica amministrazione, tra i vari ministeri, tra i vari soggetti pubblici, proprio perché l'innovazione non è un tema che dobbiamo portare noi avanti da soli, ma che dobbiamo portare avanti insieme a tutti voi, insieme a tutto il paese. E adesso passo alle mie promesse, alle promesse del nostro ministero. La prima promessa che vorrei farvi è che noi in Italia abbiamo un grosso problema da affrontare e vi prometto che noi lo affronteremo. Il problema è quello del digital divide, quello dell'inclusione digitale. Sappiamo bene che ci sono 10 milioni di cittadini italiani che oggi non hanno la connessione e internet, quindi non utilizzano internet, questo significa che non accedono alle opportunità di lavoro che internet offre, che non accedono alla crescita che questo strumento offre, che non accedono alle forme di democrazia, di comunicazione, di relazione che queste tecnologie possono offrire. Allora abbiamo creato un progetto che si chiama Repubblica Digitale, all'interno del quale soggetti pubblici e privati possono partecipare, portando alla nostra attenzione i loro progetti, i loro progetti che serviranno per risolvere questa problematica di inclusione digitale. Oggi abbiamo all'interno grosse aziende, avremo all'interno Team, abbiamo all'interno RAI, io le ringrazio per questo e chiedo a tutti voi di iniziare a partecipare a questo progetto perché i vostri piccoli progetti di inclusione sociale per noi sono importanti e noi ci prendiamo la responsabilità e il dovere di farli scalare a livello nazionale. La seconda promessa che vi faccio è il diritto a innovare. Noi siamo un popolo di innovatori e di imprenditori e spesso questa innovazione, creatività, imprenditorialità non si è potuta scaricare a terra perché per colpa di norme e di piccoli cavilli legali che sono stati magari scritti dieci anni fa quando le nostre idee neanche esistevano e quando magari le nostre idee di innovazione erano all'interno di libri sul futuro. Adesso esistono e non possiamo essere bloccati da norme che sono state scritte dieci anni fa. Cosa vogliamo fare? Vogliamo portare avanti il diritto a innovare. Se siete un'azienda, una start-up degli innovatori avete il diritto di scaricare a terra la vostra idea. Noi vi daremo una sorta di deroga all'interno del paese ma vi faremo osservare da tutte le autorità che devono monitorare il fatto che la vostra idea e la vostra innovazione sia un'innovazione che porti un vantaggio competitivo al nostro paese, che porti un impatto sociale positivo al nostro paese. Se questo è vero, se questo succede, siamo noi che dobbiamo cambiare le regole del gioco per permettere di creare nuove strade per il futuro. E poi vi prometto un'altra cosa, vi prometto che noi lavoreremo tanto, lavoreremo tantissimo tutti insieme, insieme ai cittadini, insieme alle aziende, per poter davvero permettere che all'interno della nostra nazione si possa cambiare passo, perché abbiamo tutte le carte in regola per cambiare passo. Non ci lasciate solo da soli. Grazie. Resta qua un attimo, fermati un attimo qua Ministro, fermati per favore Ministro, perché sennò sembra che diamo... Allora, siete una platea competente e qualificata, non un pubblico qualunque, quindi ne sapete di digitare di innovazione e tecnologia più di me sicuramente, quindi invece che, abbiamo pensato col Ministro che qualche domanda la fate voi, invece che farla come giornalista, tocca a voi. Se c'è qualcuno di voi che, a qualche curiosità, vogliamo chiedere qualcosa di più specifico al Ministro rispetto a quello che ha detto, è il momento. Se c'è qualche... Non timido, mi alzate un attimo le luci in sala così vedo chi è. Domande facili, eh. Domande facili, mi raccomando. C'è qualcuno che ha una domanda? Luca, se magari ti presenti, per quelli che non conoscono. Luca Soffri, giornalista del Post. Buongiorno. Il discorso dell'introduzione era molto motivante e motivata, però, lo dico rispettosamente, poteva essere il discorso dell'introduzione di qualunque Ministro che l'avesse preceduta o anche forse di Ministri di altri settori. Le vorrei dare la chance di essere un po' più concreta. Se le cose di cui stiamo parlando non sono successe fino adesso, se l'Italia, continuiamo a dire che è un Paese che sul digitale e sull'innovazione fa molto fatica, dove ci sono appunto culture di grande resistenza rispetto a tutto questo. Che cosa succede in concreto adesso? Perché questo cambi, no? Cosa sono le cose che non sono state fatte fino adesso e perché non sono state fatte fino adesso e dobbiamo aspettarci che saranno fatte da questa amministrazione e da questo Ministero? Sì, grazie alla domanda. Questa è una domanda che mi sono posta anche io. Mica sarò la più furba di tutti, che adesso arrivo e riesco a digitalizzare il Paese, a creare una strategia di innovazione. Beh, prima di tutto adesso noi abbiamo un team di persone competenti, quindi persone che non sono state scelte a caso ma hanno la competenza sulla digitalizzazione e sulla tecnologia. Questo fa la differenza. Siamo un team di persone che vogliamo lavorare, che stiamo puntando a un obiettivo molto chiaro, ci siamo fatto un action plan e abbiamo una serie di azioni che porteremo a casa. Ma soprattutto noi oggi lavoriamo su piattaforme abilitanti. Nei tre anni precedenti sono stati creati dal team di trasformazione delle piattaforme abilitanti che permettono di innestare sopra la digitalizzazione dei servizi della pubblica amministrazione. Quindi noi partiamo da una base che è stata sviluppata negli anni, in un momento storico particolare dove c'è molta attenzione all'innovazione della digitalizzazione. Le vorrei quasi dire che questo è il momento giusto. Abbiamo tutti gli strumenti, le competenze e abbiamo imparato dagli errori precedenti, quindi questo è quello che posso risponderle. Un'altra domanda? Dove dobbiamo dare il microfono? Ne vedo te. Sì, qua. Carlotta mi ha fatto segno. Perfetto, grazie Carlotta. Se ti presenti anche? Sì, certo. Silvia Cambiani di Microsoft. Scusi. Volevo sapere come pensavi di attivare la partnership pubblico privato, che tipo di strumenti pensavi di attivare per coinvolgere le aziende? Questo progetto di cui vi ho parlato, Repubblica Digitale, del quale poi vi parlerà meglio il commissario straordinario per la trasformazione digitale, è proprio uno strumento che attiva la partnership pubblico privato, nel senso i privati ci sottoporranno, ci presenteranno i loro progetti e noi cercheremo di fare scalare questi progetti di inclusività digitale, ma non solo. Quando parlavo del diritto a innovare, parlavo non solo del fatto di poter riuscire andare in deroga a determinate normative, ma noi cerchiamo di spingerci ancora un po' più in là. Se start-up, innovatori riescono a dimostrare la validità della loro innovazione all'interno del nostro paese, noi come pubblica amministrazione abbiamo il dovere di diventare dei partner di queste start-up, in modo tale da aiutarle a scalare non solo a livello nazionale, che non è un grosso mercato, ma a livello europeo e a livello globale, quindi diciamo entreremo in partnership con le aziende e poi ci faremo anche sostenere dagli strumenti economici che abbiamo, il fondo di innovazione è uno di quegli strumenti che sosterrà la strategia di innovazione del paese anche dal punto di vista economico. Il fondo di innovazione dovrebbe partire a fine ottobre più o meno, così pare. Perfetto, una domanda anche qua, poi ne ho visto un'altra, arrivo subito a te, ho visto prima lei. Se ti presenti anche ovviamente. Sì, sono qua, Maria Savona, sono un'economista dell'innovazione e insegno in Inghilterra. Abbiamo tutti grandi speranze di un nuovo ministro dell'innovazione, grazie dell'intervento. Va benissimo Digital Divide, questi sono obiettivi importantissimi, eccetera, eccetera. L'innovazione è però fatta anche di ricerca di base, di ricerca pubblica e di supporto pubblico alla ricerca privata. Avete un piano? Allora, noi abbiamo il seguente piano, nel senso stiamo facendo un assessment nei vari ministeri per capire quali sono gli obiettivi dei vari ministeri, questo è un obiettivo del Ministero del MIUR sulla ricerca. E noi entreremo a creare una strategia comune tra i vari ministeri all'interno dell'innovazione. Quello che noi abbiamo visto è che la ricerca di base, e questo per esperienza diciamo pregressa, la ricerca di base deve essere innestata in un contesto positivo affinché poi possa diventare trasferimento tecnologico. Quindi ricerca di base e università intorno start-up, ma anche soggetti importanti come gli acceleratori che possono riuscire a velocizzare questo processo. Quindi per noi potrebbe essere anche una strategia importante quella di riuscire a creare intorno alla ricerca di base un tessuto e un hub che la supporti e la faccia emergere. E soprattutto cerchiamo di comunicarla, perché noi ricercatori, anch'io arrivo da quel mondo, facciamo tanta ricerca e poi non ci interessa comunicarla. Invece abbiamo all'interno delle nostre università tanti dipartimenti che fanno davvero delle ricerche incredibili. Io vedo ad esempio il Politecnico di Torino nelle telecomunicazioni, sta facendo delle ricerche pazzesche, però non si sa. Bene, abbiamo ancora un po' di domande al volo. Buongiorno Ministro, sono Fabrizio Perletta, lavoro in un'azienda che realizza infrastrutture di telecomunicazione, energia, trasporti. È bellissimo quello che si sta dicendo, noi siamo impegnati nella infrastrutturazione dell'Italia, stiamo costruendo noi autostrade in fibra ottica. Abbiamo un problema però, non riusciamo a mettere a terra la nostra capacità produttiva. Noi non ce la facciamo più. a combattere con i comuni e ovviamente rispetto per tutti, le province, l'ANAS, le ferrovie. Noi non riusciamo a ottenere i permessi, non riusciamo a far nulla, siamo impegolati nella burocrazia totale. Ci aiuti per favore perché altrimenti giriamo vuoto. Grazie. Verissimo, tutti i permessi che le aziende chiedono ad oggi ai comuni hanno purtroppo delle tempistiche molto lunghe e spesso non si capisce neanche chi è l'interlocutore. Questa è una problematica dei comuni che noi cercheremo anche di affrontare. La facilità di far ottenere alle aziende dei permessi per la loro attività. Quindi questa noi ce l'abbiamo in pipeline come un problema molto chiaro. Io prima lavoravo al Comune di Torino come assessore all'innovazione e l'ho vissuto questo problema, ma anche interno al Comune. Cioè anche noi del Comune, se vogliamo fare qualcosa e vogliamo richiedere dei permessi a altre divisioni del Comune per l'utilizzo del suolo, abbiamo dei problemi. Quindi questo è un grosso problema. Bene, Ministro Paolo Zanotto. Grazie, grazie mille. Grazie a voi. Buon lavoro. Grazie a voi.